Entrati nel vivo del Natale, a Fano ci si prepara già per la prossima edizione del Carnevale. La macchina organizzativa ormai è nel pieno dell'organizzazione della manifestazione e chiede così a gran voce ai tantissimi cittadini fanesi di tesserarsi a lente. Chi acquisterà il costo di 10 euro, la tessera 2019, non solo contribuirà a sostenere l'evento ma diventerà allo stesso tempo socio. E come sempre non mancheranno anche le agevolazioni, quest'anno la tessera sarà di fondamentale importanza perché tutti i possessori potranno entrare ai corsi mascherati che ricordiamo il prossimo anno saranno a pagamento ad un costo di 10 euro spendendo solamente un euro. Come ogni anno durante il Natale ricominciamo il tesseramento per il nuovo anno, quindi l'8 di dicembre abbiamo iniziato il nuovo tesseramento 2019. Sapete che tesserarsi a lente carnevalesca è importante non solo per sostenere la più grande manifestazione della nostra regione ma quest'anno questo servirà anche per entrare al Carnevale con solo un euro. E non finisce qui perché i tesserati avranno diritto ad altri sconti e riduzioni. Oltretutto ci saranno tanti altri vantaggi in vari esercizi della città, tutti i riferimenti li troverete nel sito della Carnevalesca alla sezione tesseramento. Ci si può tesserare ovviamente a lente carnevalesca e altri punti in città, vari punti in città, nella sezione tesseramento. Anche questo lo troverete scritto. Nel fine settimana ci saremo invece noi volontari della Carnevalesca che con il nostro gazebo saremo in centro storico e lì potete tesserarvi. Quindi io vi esorto a tesserarvi. Questo è un amore verso questa grande manifestazione che dal 1347 distingue Fano in Italia.